Musica Ben trovati a l'ora della verità, ciao Arianna Buonasera Edoardo, salve a tutti Allora oggi puntata davvero speciale perché ci occuperemo nella prima parte dei poteri dei poteri più o meno occulti e l'occasione c'è data dalla scomparsa di uno dei personaggi più in vista della famiglia Rothschild, cioè Jacob, morto alla veneranda età di 87 anni Ma non solo Rothschild, nella seconda parte parleremo anche di vaccini perché lo sappiamo bene, le grandi case farmaceutiche sono anche finanziate da queste grandi famiglie come i Rothschild e recentemente c'è un grande studio internazionale che ha evidenziato come gli effetti avversi siano più numerosi delle aspettative nonostante questo conclude comunque che la vaccinazione abbia più benefici che rischi e consiglia comunque il vaccino e ne parleremo appunto nella seconda parte E allora andiamo a salutare i nostri ospiti come sempre che ci vengono a trovare abbiamo Giovanna, facciamo un applauso, Antonio, Teresa, ciao, Daniela, bentrovati, Andrea e Sabina E presentiamo anche i nostri relatori e con noi il giurista Ugo Mattei, benvenuto, ben ritrovato Grazie E con noi anche l'avvocato Mauro Sandri dello studio Santalex, benvenuto In collegamento ci ha raggiunto Davide Rossi, saggista, ben ritrovato Buonasera Ed è con noi anche Pietro Ratto, scrittore, benvenuto su Bioblu E partiamo come sempre dal nostro collegamento a Roma dove ci aspettano le vignette di Mario Improta Ciao Mario Buonasera, buonasera a tutti voi e ai vostri ospiti La prima vignetta la dedico a un fatto storico ossia l'estinzione dei primi europeisti Vediamola, eccola qui, una scrosciante pioggia, un diluvio e i due europeisti all'interno della caverna che dicono, si sta allagando, forse dovremmo uscire No, ci vuole più caverna Grazie, grazie Mario, ci fai partire sempre con il sorriso Allora partiamo subito con il nostro servizio che fa un po' il punto e ci spiega la figura Chi è Jacob Rothschild e da dove viene la famiglia Rothschild Vediamo il servizio cura di Michele Crudelini E' morto a 87 anni Lord Jacob Rothschild finanziere multimiliardario noto per l'appartenenza al celebre clan di banchieri che ha inaugurato le sue fortune a cavallo tra il 700 e l'800 Nella storia il nome Rothschild è associato a due parole potere e discrezione Questa famiglia è riuscita infatti ad entrare nelle stanze dei bottoni grazie ad una strategia spregiudicata di speculazione economica Tra tutti spicca il caso della battaglia di Waterloo dove i Rothschild si sono ritrovati a scommettere sulla vittoria di entrambi gli schieramenti salvo poi concentrarsi sulla Gran Bretagna grazie alle informazioni ricevute direttamente dal fronte con largo anticipo E anche Jacob Rothschild ha incarnato nella vita questa visione affaristica del mondo condita da tanta discrezione La nostra tradizione è che non gridiamo i 420 quello che stiamo facendo Aveva dichiarato così Jacob Rothschild al Jerusalem Post nel 2012 dopo aver finanziato la costruzione del Parlamento israeliano e della Corte Suprema di Tel Aviv Il sostegno di Jacob Rothschild alla causa israeliana non si è però solo realizzato con opere civili ma anche con lo sfruttamento illegale di risorse petrolifere Dal 2013 è infatti acquistato attraverso la società americana Genie Energy il diritto esclusivo di sfruttamento di un giacimento di petrolio di 400 km2 situato nei territori occupati delle alture del Golan Piccolo particolare le Nazioni Unite riconoscono questa porzione di territorio come parte della Siria di conseguenza anche le risorse presenti sono di proprietà di Damasco Storicamente però la causa sionista è stata appoggiata fin dai suoi albori dalla dinastia Rothschild come dimostra la lettera firmata dall'allora ministro degli esteri inglesi Arthur Balfour è indirizzata al barone Walter Rothschild in cui si preannunciava la creazione di una dimora nazionale per il popolo ebraico in Palestina Da segnalare poi il possibile legame tra Jacob Rothschild e Mikhail Khodorkovsky uno degli oligarchi russi che più di tutti si è arricchito nel periodo delle privatizzazioni dopo il crollo dell'Unione Sovietica Secondo quanto avevano riportato i media britannici nel caso in cui Khodorkovsky fosse finito in arresto i fondi della compagnia petrolifera da lui detenuti sarebbero stati trasferiti alla filiale Rothschild Ad ogni modo Jacob Rothschild lascia un patrimonio personale di oltre un miliardo di dollari insieme ad un impero finanziario solido e tentacolare il fondo assicurativo St. James, il gruppo petrolifero Geni Energy il fondo di investimento REIT Capital Partner oltre a innumerevoli partecipazioni ombra e proprietà immobiliari L'impero Rothschild è ancora più vivo che mai e molte domande restano sulla reale capacità di questa famiglia di influenzare la politica internazionale Ecco l'impero Rothschild, ma da dove viene questo impero? Andiamo a vedere un po' per curiosità anche l'albero genealogico di questa famiglia vediamolo, eccolo qui inizia tutto intorno al Settecento, la metà del Settecento Meyer, Amschel, Rothschild poi abbiamo vari personaggi e come potete notare sono dislocati un po' ovunque a Londra, Francoforte, Vienna, Napoli anche e Parigi questo tutto nell'Ottocento per poi ovviamente incrementare il loro potere e la loro influenza io a questo proposito vorrei andare dal professor Ratto che si è occupato, si occupa dei Rothschild in maniera estesa per chiedere appunto in maniera più specifica da dove vengono esattamente e come si sono arricchiti Buonasera, stiamo parlando di una dinastia di banchieri potentissima che nasce nella Judengas di Francoforte da un negozio di ferramenta e di cambiavalute che era di proprietà del padre di Meyer, Amschel, Rothschild il quale si dimostra sin da molto giovane è un grande esperto di valute e un grande studioso e appassionato di finanza al punto da diventare molto presto il cassiere di una delle banche imperiali più importanti in Austria e cioè la Oppenheimer Bank e poi di fatto la sua grande competenza lo porta ad essere chiamato dall'angravio di Asia Castle Guglielmo IX per curare i suoi interessi soprattutto per aiutarlo a investire nel modo migliore e l'angravio di Asia Castle in quel modo grazie ai consigli di Meyer, Amschel, Rothschild diventa di fatto il più ricco principe dell'impero ancora più ricco, parecchio più ricco dell'imperatore stesso uno dei consigli che dà Meyer, Amschel, Rothschild al nostro langravio Guglielmo IX è proprio quello di comprare un esercito personale parecchio nutrito e noleggiarlo alle grandi nazioni sarà per esempio affittato alla corona inglese nella guerra di indipendenza americana i Rothschild hanno grandi momenti di evoluzione finanziaria uno lo avete citato secondo alcuni storici addirittura il punto di svolta che consiste proprio nell'aver finanziato contemporaneamente Napoleone e il duca di Wellington nella battaglia di Waterloo e di fatto aver poi incassato da entrambi anche perché come spesso, anzi direi sempre la storia a scuola non insegna chi perde in una guerra paga e quindi se le due fazioni, se i due eserciti in gioco per poter partire in un'impresa di questo tipo necessitano di finanziamenti e quindi di prestiti da richiedere ai banchieri per poter appunto mettere in atto l'azione militare poi di fatto c'è anche il problema che chi perde deve pagare tutte le spese di guerra a chi vince e qui mi riferisco a un aspetto che spesso è stato frainteso nel momento in cui si dice a che cosa servono mai i banchieri visto che un sovrano può battere moneta autonomamente e per esempio i banchieri servono a questo scopo nel momento in cui ci sono grandi transazioni internazionali come in occasione dei trattati di pace quando di fatto accade che come per esempio in questa situazione ma già accade nella guerra dei cent'anni con altri grandi banchieri come i Frescobaldi, i Peruzzi, gli Acceiuoli e via di seguito i Bardi eccetera accade che il sovrano X debba pagare le spese di guerra al sovrano Y ma non può certo farlo con la sua moneta e quindi ci vuole il banchiere che nel frattempo è investito in miniere d'oro d'argento all'epoca molto importante anche l'allume e quindi di fatto questo investimento fa sì che il banchiere possa garantire un trasferimento di ricchezza, di valore da un sovrano all'altro che sia spendibile quindi normalmente in oro Grazie Pietro Ratto abbiamo fatto quindi un quadro generale sono partiti da una ferramenta poi finanziando da una parte e dall'altra si sono arricchiti adesso sappiamo possiedono gran parte delle banche centrali del mondo vado da Davide Rossi e vorrei chiederle sì sappiamo che ci sono i Rothschild ma anche altri personaggi oscuri un po' loschi come ad esempio non so mi viene in mente Soros Klaus Schwab e tante altre organizzazioni anche massoniche che molto spesso vediamo come appunto coloro che governano e tirano le fila del mondo ma è davvero così? c'è ancora un altro livello superiore di potere che non conosciamo? governano veramente il mondo queste organizzazioni? Questo è un tema delicato si fa presto a scivolare in voli bindarici di fantasia che poi vengono etichettati come complottisti per cui stiamo alle cose di cui abbiamo conoscenza o perlomeno di cui io ho conoscenza e diciamo che in determinate famiglie non mi riferisco soltanto a quelle dalle dinastie economico-finanziari mi riferisco anche ad ambienti politici diciamo che specialmente nel mondo anglosassone chi nasce in determinate famiglie viene educato al comando e viene educato a sviluppare delle capacità da altissimo dirigente fin da bambino questo non avviene solamente ma nelle famiglie reali questo avviene in tutta una serie di ambienti che consentono una continuità nelle catene di comando che va avanti per secoli questo è diciamo un dato di fatto poi questa formazione avviene in parte all'interno delle famiglie in parte all'interno di università che sono anche degli snodi fondamentali sia per essere legittimati poi a ricoprire certi ruoli sia per coltivare un certo tipo di relazioni e questo è quello che consente anche di progettare su lunghissimi periodi mentre le persone comuni molto spesso progettano di qui a un giorno ma cercano di di gestire la propria vita su un orizzonte temporale che molto spesso è costretto ad inseguire gli affanni della vita quotidiana ecco in altri ambienti invece c'è la capacità e la possibilità di progettare coltivare progetti che hanno un orizzonte molto molto più ampio di quello cui siamo abituati a pensare noi tanto è vero che io non ho compiuto studi specifici sulla famiglia Rossil ma li ho compiuti invece su un'organizzazione politica ufficiale che agisce a luce del sole e che non solo è particolarmente prestigiosa che è la Fabian Society Fabian Society che già dal nome proprio evoca questa diciamo lungimiranza questa capacità di saper attendere sapere programmare il futuro anche a lunga gittata ed essere capaci anche di avere momenti nei quali si arretra rispetto al raggiungimento dell'obiettivo fino a che non si allineano tutte le condizioni favorevoli per arrivare a centrare questo obiettivo insomma c'è una raffinatezza potremmo dire così ed una attitudine al comando che è nettamente superiore a quella degli ambienti che siamo abituati a frequentare faccio un ultimo esempio un collegio molto prestigioso inglese come Eton da cui sono usciti alcuni dei più importanti premier conservatori di quel paese ad esempio Boris Johnson e David Cameron per stare solo agli ultimi ai più recenti e in quel collegio lo statuto prevede che i docenti debbono coltivare l'innato senso di superiorità degli studenti quindi è un approccio alla vita molto diverso e tra l'altro io ricordo un vecchio filmato che riguardava Jacob Rothschild che venne intercettato da una giornalista all'uscita di non so quale locale che lo intervistò sulle strade praticamente e ricordo l'impressione che mi fece quella immagine quell'intervista è di una persona molto centrata di una persona dallo sguardo fermo e che non si non si faceva certamente intimidire che ascoltava domande che erano molto incalzanti e molto provocatorie e che rispondeva con gentilezza e con come posso dire una centratura che mi colpì particolarmente questo naturalmente può essere dato dalle caratteristiche individuali ma io credo che sia anche proprio una come dicevo prima un'attitudine che viene coltivata una possibilità di accedere a saperi e ad una educazione che consentono a molti di queste persone di viaggiare ad un livello più alto di quello che potremmo definire l'uomo medio quindi persone preparate che sono state istruite in apposite scuole che appunto preparano i leader del futuro l'abbiamo già accenato prima nel servizio il fatto che si si progetta il futuro ma queste persone queste famiglie hanno anche progettato il passato farei un attimo un focus sul collegamento fra la famiglia Roshield e la creazione dello Stato di Israele fu infatti inviata una lettera dalla loro prima ministro inglese lo ricordiamo Arthur Belfort proprio al nonno del defunto Jacob Roshield dove si garantiva che sarebbero rispettati sarebbero stati rispettati i diritti dei palestinesi delle persone non ebraiche ma come sappiamo non è stato così sentiamo questo breve estratto la moderna storia ebraica inizia con tre parole caro Lord Roshield caro Lord Roshield ho il piacere di trasmettervi a nome del governo di sua amestà la seguente dichiarazione di solidarietà alle aspirazioni sioniste ebraiche che è stata presentata e approvata dal gabinetto perché questa lettera è stata inviata dal segretario degli esteri a suo nonno Walter è una domanda interessante perché era principalmente un movimento proveniente dall'Europa orientale ma non hanno chiarito chi fosse responsabile di quel movimento in fin dei conti però era in Gran Bretagna quindi hanno pensato che il destinatario dovesse essere la famiglia Roshield e Walter era un sionista queste sono le ragioni di fondo quindi Walter ha ricevuto la dichiarazione di Balfour ne ho una copia qui e mi domandavo se potessi chiederle di leggerla per noi sì certamente mi metto gli occhiali per assicurarmi di leggerlo con precisione il governo di sua maestà vede con favore l'istituzione della Palestina come patria nazionale del popolo ebraico e farà tutto il possibile per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo essendo chiaro che non verrà fatto nulla che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina o i diritti e lo status politico degli ebrei in qualsiasi altro paese sarà grato se poteste portare questa dichiarazione alla conoscenza della federazione sionista il suo Arthur Balfour Allora Professor Mattei qui c'è però una questione com'è che un capo insomma una persona un politico di quella levatura si rivolge a un privato per coinvolgerlo in situazioni politiche e vogliamo dire che privato ovviamente forse perché i Rothschild avevano avuto un ruolo particolare nella creazione dello Stato di Israele è evidente che per fondare uno Stato ci vogliono un sacco di soldi nel senso che c'è evidentemente una ragione di economia politica dietro a quella Balfour Declaration che è stata la vera catastrofe diciamo nella vicenda della vicenda del Medio Oriente io non mi stupisco e c'è un sacco di letteratura che si domanda perché e che cosa come mai è stato scelto proprio Rothschild però è chiaro che si trattava dell'esponente più in vista del mondo finanziario internazionale che in quel momento storico era chi stava facendo l'operazione diciamo della nascita dello Stato di Israele che fosse assolutamente interno rispetto diciamo al movimento sionista quindi ha fatto come dire la portavoce dopodiché sono incarichi di grande prestigio perché comunque ricevere una lettera da Balfour dimostra diciamo come questi signori siano sempre mossi ad un livello altissimo e si muovono ancora ad un livello altissimo stiamo parlando e lo dicevate bene prima quando parlavate della loro formazione mi parlo di Cesserostri stiamo parlando di un'elite di aristocrazia finanziaria che a partire sostanzialmente dalla rivoluzione industriale inventandosi la rivoluzione finanziaria quindi il pezzo come dire più avanzato a seconda rivoluzione industriale ha costruito le premesse del dominio dell'Occidente sul resto del mondo questo è il quadro di riferimento quindi siamo in un quadro totalmente colonialista totalmente imperialista in cui l'Occidente mette le sue persone di maggior valore formate all'interno di un certo tipo di cultura che era la cultura aggressiva sostanzialmente la cultura dell'Occidente per svolgere i compiti che si sono dati quindi tutto in un quadro come dire perfettamente comprensibile in quell'ambito di classismo estremo che sono il sistema dei college inglesi e in parte anche americani ecco allora abbiamo iniziato parlando del fatto che i Rothschild spesso e volentieri giocano su due tavoli insomma vogliono vincere in un modo in un altro e a conferma di questo andiamo a vedere l'enciclopedia ebraica che è stata comunque pubblicata tra il 1901 e il 1906 ma se voi andate su internet trovate tutta la versione digitale di questa enorme enciclopedia e c'è una voce dedicata proprio ai Rothschild adesso lo facciamo vedere anche con il cartello a un certo punto si parla del fatto che i partiti nazionalisti e reazionari in Francia desideravano controbilanciare l'influenza semita dei Rothschild e allora stabiliscono una banca essenzialmente cattolica l'Unione Generale e fondata con un capitale di 4 milioni di franchi poi incrementato a 25 milioni questa però banca non ha una grande fortuna perché va in rovina lo descrive anche Zola questo è tutto riportato sto traducendo questa enciclopedia e la rovina di questa banca manda in rovina anche molti aristocratici francesi legati alla nobiltà cattolica a quel punto cosa succede che anche in Gran Bretagna c'è la stessa situazione c'è la competizione dei bearings con i Rothschild naturalmente succede anche qui c'è questa contrapposizione come dicevo però l'enciclopedia sostiene questo adesso poi voglio coinvolgere il professor Ratto per chiedere se è a conoscenza di questo e ci può confermare dice l'enciclopedia e in un certo senso curioso il fatto che i competitori dei cattolici cioè i Rothschild siano anche guardiani del tesoro papale cioè si afferma che i Rothschild siano in qualche modo legati anche al Vaticano tra l'altro c'è questa non è una novità insomma non è un segreto perché c'è anche una pagina di Wikipedia dedicata ai prestiti dei Rothschild alla Santa Sede nell'Ottocento chiedo al professor Ratto se può confermare questo che ho appena letto se è a conoscenza di questo e come spiegare anche questo aspetto cioè molta gente pensa che i Rothschild siano in qualche modo opposti a un certo potere cattolico Vaticano invece qui sembra che i rapporti siano molto più intersecati di quello che può sembrare insomma io scrivo su questa gente da tanti anni e mi stupisce che siamo ancora così a un livello di lontananza rispetto alla comprensione dei fatti e soprattutto quelli che hanno avuto a che fare con questa famiglia prima si è toccato la questione della dichiarazione Balfour e ci sarebbe da tirare in ballo tutto il discorso e quello che viene riportato da Benjamin Friedman che faceva parte della delegazione ebraica ai trattati di Versailles il quale ricorda chiaramente una situazione allucinante di cui io parlo in un libro che si chiama Rockefeller e Warburg e cioè quella per cui all'inizio nell'ottobre del 1916 i membri più ai vertici della comunità ebraica tedesca vanno a Londra e dicono l'Inghilterra sta perdendo e ormai praticamente sconfitta nei confronti dei tedeschi ma noi possiamo ribaltare la guerra le sorti della guerra in cambio della Palestina di cui l'Inghilterra era da poco entrata in possesso visto che le guerre mondiali sono di fatto due guerre petrolifere e di fatto si giocano soprattutto in Medio Oriente e nel Nord Africa gli inglesi chiedono quale sia il modo con cui possono ribaltare le sorti della guerra racconta Friedman in realtà la comunità ebraica tedesca risponde di non preoccuparsi soltanto di incassare cioè di assicurare questa condizione di poter avere poi la Palestina a fine guerra cosa succede? che gli inglesi non hanno nulla da perdere ormai oltre il fatto che stanno già perdendo e quindi accettano racconta Friedman dopodiché e sto dicendo delle cose gravissime dopodiché nell'aprile del 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra con quello che il famoso quella che la famosa scusa il pretesto del bombardamento del siluramento dell'usitania e a quel punto si crea una situazione incredibile per cui le sorti della guerra si ribaltano completamente e nell'ottobre del 1917 la comunità ebraica tedesca si ripresenta a Londra dicendo avete visto e adesso ci date quello che vogliamo è così all'inizio di novembre del 1917 c'è la famosa dichiarazione Balfour che viene spedita a uno dei principali esponenti del sionismo di Casa Rothschild proprio perché impegnato in questo genere di situazione e in questo capovolgimento delle sorti della guerra stiamo dicendo cose terribili perché si capisce forse un po' di più quella credine che caratterizzerà il nazionalsocialismo nei confronti della comunità ebraica locale per quanto riguarda poi la questione dei rapporti tra i Rothschild e il papato approfondisco parecchio questa questione nei Rothschild in Italia in realtà la questione parte soprattutto dai rapporti tra Gregorio XVI e Carl Rothschild e stiamo parlando di un prestito che viene accordato al Papa Gregorio XVI affinché possa diciamo comprarsi un esercito privato per proteggersi in occasione di quelli che sono i moti del 30 e quindi una situazione di grande destabilizzazione dell'Italia centro-meridionale e soprattutto centrale ma anche centrale anche nel senso non solo delle legazioni pontifice dove era scoppiata dove erano scoppiati i moti del 30 ma anche nel Lazio e nello stato pontificio e quindi il Papa ottiene un grande prestito da Carl Rothschild che era uno dei più giovani il penultimo dei fratelli di casa Rothschild che era finito a Napoli dall'inizio del dal febbraio del 21 per finanziare per aprire una linea di credito nei confronti del re delle due Sicilie che grazie agli austriaci era stato rimesso sul trono ma Metternich aveva messo come condizione quella di come dire di farsi risarcire da parte di Napoli solo tramite banca Rothschild e quindi Carl era ormai estremamente potente in quella zona e succede che sia lo stesso Papa Gregorio XVI a chiedere il suo intervento e quello che poi suscitò un grande scandalo fu proprio che il Papa ricevette Carl Rothschild e si fece baciare la mano cosa che non era mai stata permessa prima a un ebreo e di fatto fino a quel momento al Papa veniva baciato il piede e invece venne baciato alla mano e da un banchiere ebreo che di fatto sanciva questa grande alleanza tra Casa Rothschild e il Papato che poi avrebbe avuto un futuro molto lungo chiarissimo allora siamo arrivati alla fine di questo primo blocco ma rimanete con noi perché come avete sentito c'è tanto da sapere continuiamo tra poco ed eccoci di nuovo questa è l'ora della verità ben ritrovati subio blu stiamo parlando della famiglia Rothschild e del potere di quelle grandi famiglie che rappresentano un po' l'1% della popolazione ma che hanno in mano tanto denaro e potere sul globo stavamo parlando anche del fatto che se sono queste grandi famiglie a tirare le redini del potere ha ancora senso votare rivolgo la mia domanda all'avvocato Sandri perché molto presto ci sono le elezioni in Europa ma anche negli Stati Uniti a breve ci sono le elezioni di novembre gli elettori vanno a votare ma chi stanno votando dei burattini di queste famiglie ha ancora senso andare alle urne? ma io non mi ascrivo francamente alla narrazione di queste famiglie quali veri motori della storia perché questo può essere vero finché detengono quello che è il vero valore cioè l'oro la svolta che avviene con la con la battuta di moneta di ricarta va oltre il livello estetico e materiale perché sposta il potere a chi batte moneta non chi ha più oro quindi è una evoluzione che porta verso scenari completamente diversi più interessante può essere la valutazione di quello che avviene nel 1913 con la nascita della Federal Reserve quando il battere la moneta diventa un affare privato di banche statunitensi private in Europa si resiste a questa deriva nascono banche di diritto pubblico fino a quando negli anni 90 vengono privatizzate le banche pubbliche che controllano la banca di Stato questi sono i passaggi quindi io non credo che sia inutile votare sul presupposto che queste famiglie muovano il mondo il mondo è mosso da un'altra entità che è quella che controlla effettivamente il mondo vale a dire quando vedrò un Roshid andare contro gli Stati Uniti un Soros andare contro la politica estera statunitense allora potrò pensare che le banche contino qualcosa l'unico vero potere che in questo momento è ed esiste è quello del potere politico americano che permia integralmente l'economia la integralmente poi avremo modo di approfondire quindi questo è credo il passaggio che a mio parere deve essere effettivamente focalizzato parlare di poteri che siano in mano ad elite private è vero ma nella misura in cui non entrano mai in conflitto con l'unico vero potere perché in quel momento sia la federal reserve sia l'oms sia la fabian social society non hanno più spazio se si oppongono agli interessi americani nel mondo però sarei ben lieto di vedere che questo accade cioè che i roshid si pongono contro il governo statunitense per ora non vedo non mi pare che sia la cosa anche interessante è che magari se finanziassero una parte sola ci potrebbe anche stare il problema è che i roshid spesso finanziano tutte e due le parti però mi pazienza questa non è affatto una peculiarità dei roshid voglio dire il sistema delle corporation funziona così le campagne elettorali negli Stati Uniti oggi sono finanziate dagli stessi soggetti quali danno metà dei soldi repubblicani e metà dei soldi democratici non c'è dubbio quindi la storia del partito unico è quanto di più vero tu possa immaginare da questo punto di vista nel senso che c'è ovviamente un blocco di economia politica che è quello cui faceva riferimento Sandri che è il blocco come dire dello Stato apparato degli Stati Uniti d'America con tutto il pezzo del complesso militare industriale e quant'altro perché ovviamente stiamo parlando di entità estremamente complesse ma il comportamento di giocare su due tavoli è un comportamento che esiste da sempre questi signori sicuramente hanno sono stati precursori di una dimensione globale della finanza ossia il papà il vecchio bisnonno Rothschild aveva effettivamente dislocato i suoi figlioli nei vari punti cruciali degli emergenti sistemi finanziari e in questo modo hanno potuto fare un'azione come dire di arbitraggio estremamente importante estremamente rapida per l'epoca che dà dei ritorni enormi dal punto di vista finanziario ancora oggi i soldi si fanno sostanzialmente sugli arbitraggi di operazioni a brevissimo quindi se tu per primo ti posizioni su scala globale e per primo hai la spregiudicatezza sostanzialmente di capire che con la finanza finanzi gli eserciti poi non sei il primo perché comunque anche i medici e tutte queste cose qui sappiamo bene che si erano indebitati i banchieri fiorentini e quant'altro è chiaro che quell'intuizione lì sposta la partita perché tu giochi una partita geopolitica globale mentre quegli altri sono bloccati in una dimensione locale quindi vinci 6060 e funziona così adesso andiamo a parlare anche dell'informazione perché questi gruppi queste famiglie queste organizzazioni non sono interessate soltanto all'aspetto militare o strettamente economico ma anche all'informazione uno che è interessatissimo all'informazione e non da oggi è George Soros che ha deciso con la Open Society Foundation e non solo lei ma c'è anche i pezzi del governo britannico di finanziare cosiddetti media indipendenti sembra uno simolo perché voglio dire finanziati da un governo e da Open Society Foundation ma di finanziare dei media indipendenti nel centro Asia già sappiamo che Soros è impegnato nel finanziare i cosiddetti dissidenti in Europa dell'Est già dalla fine dell'Unione Sovietica ma come vediamo questo lo riporta il sito RT russo vedete scritto anche in russo ci dovrebbe essere questo progetto di finanziare appunto siti internet giornali televisioni radio per come dire garantire un'informazione dicono loro plurale in quella zona del mondo quindi vorrei chiedere al dottor Rossi ecco c'è anche questo aspetto della propaganda dell'informazione qui vediamo in particolare impegnato Soros che con la sua fondazione davvero elargisce una grande quantità di denaro d'altronde se si va sul sito della Open Society si trova come poter accedere a questi fondi se si presenta un progetto che è di interesse e corrisponde a quella che è la politica della fondazione si può ottenere un finanziamento di svariati anche milioni di euro ecco c'è anche quindi l'aspetto della propaganda dell'informazione che deve essere tenuto conto e a cui queste famiglie o queste organizzazioni guardano in maniera molto attenta è certo certo che è così lo vediamo anche molto più banalmente quando cambiano i governi in Italia cosa succede al cosiddetto spoil system sulla RAI è chiaro che controllare i mass media controllare cioè diventare padroni del discorso pubblico imporre i temi censurare quelli che sono sgraditi costruire narrazioni come si dice di fatti oramai la realtà è più quella percepita che quella effettivamente vissuta proprio perché le narrazioni che il potere fa attraverso controllo dei mezzi di comunicazione consente di costruire delle vere e proprie realtà insomma in ballo è il consenso delle masse qualsiasi potere anche il più forte anche il più tirannico ha bisogno del consenso di una fetta importante di consenso delle popolazioni che sono gestite amministrate governate nessuno può governare a lungo se non ha il consenso dell'opinione pubblica abbiamo visto durante la vicenda cosiddetta pandemica si è messa in atto una gran cassa mediatica che è stata incessante per mesi 24 ore al giorno affinché nelle menti e negli animi delle persone si configurasse una visione di quello che stava accadendo di un certo tipo quindi il tema dell'informazione del controllo dei mezzi che vengono propagate nelle popolazioni è un tema fondamentale per chiunque voglia gestire il potere aggiungo questo che sono perfettamente d'accordo con quello che diceva l'avvocato Sandri poco fa e anche con quello che diceva Ugo Mattei sul tema che io ho l'impressione che addebitare a poteri privati il controllo del mondo come tante volte siamo tentati di fare sia in parte raccontare un pezzo di verità ma d'altro canto anche tante volte forviare e manlevare chi è padrone del potere politico quelli veri ovviamente se non mi riferisco certo magari i parlamentari di Roma però chi detiene il potere politico è sgravato da questa narrazione dalla responsabilità degli atti che prende sostanzialmente noi ormai tanti tanti di noi credono che i governi siano quasi vittime o comunque clientes di poteri finanziari privati che dominano completamente le scelte di questi paesi ecco se si entra più in profondità in questi temi ci si accorge che non è esattamente così e se volete potrei fare anche un esempio che riguarda l'attualità se ho ancora due o tre minuti per poterlo raccontare mi scusi un attimo per capire perché appunto questo è interessante può fare l'esempio ma le chiedo appunto allora chi viene prima ecco cerchiamo di chiarire questo anche per chi ci sta ascoltando se non sono queste famiglie questi gruppi l'ultimo livello di potere si torna allora a un potere politico di altra natura allora è chiaro che è difficile qui capire se è nato prima l'uovo o la gallina però c'è una frase famosa che circola da tanto tempo che è attribuita proprio a un roshill poi non so se l'abbia mai pronunciato davvero un roshill ma comunque è attribuita a un esponente di quella famiglia che dice datemi il potere di stampare denaro stampare moneta e io e non mi interesserà chi è il governo questa frase che non so appunto da chi è stata davvero pronunciata sembrerebbe in prima lettura avvalorare l'attesi che il potere del denaro è preeminente rispetto al potere pubblico al potere politico in realtà se la esaminiamo meglio questa frase dice che per poter esercitare quel potere di altra finanziaria ha bisogno di una legge cioè dice datemi questo potere e quindi di fatto secondo me in ultima istanza il potere è quello della legge quindi è quello di chi detiene il potere coercitivo sulla generalità delle persone attraverso le leggi e con il monopolio dell'uso della violenza che notoriamente è in capo agli stati nella civiltà moderna quindi che poi siamo arrivati ad un punto nel quale si è diventato anche molto difficile districare dove inizia un potere e dove finisce un altro anche perché vediamo che le classi dirigenti per il fenomeno delle sliding doors delle porte girevoli una volta sono chiamati a presiedere magari un governo e poi il giorno dopo vanno in una grande banca d'affari poi tornano a fare i governatori delle banche centrali quindi diciamo che ormai la galassia del potere politico finanziario militare è inestricabile però e chiudo andiamo a verificare ad esempio quelli che sono considerati dei potenti del mondo moderno le grandi corporation delle big tech le grandi compagnie Microsoft Elon Musk eccetera eccetera ecco noi se andiamo a indagare meglio capiamo che certamente le persone che sono a capo di quelle aziende hanno dei grossi talenti da quel punto di vista ma le scoperte le innovazioni tecnologiche necessitano di imponenti finanziamenti che possono venire solo da ambienti statuali e molto spesso le innovazioni tecnologiche scaturiscono da ambienti militari ed intelligence e quindi da ambienti che afferiscono ai poteri pubblici ai poteri statuali quindi attenzione a non assolvere diciamo così dai provvedimenti della responsabilità dei provvedimenti che molto spesso colpiscono le nostre libertà gli stati e i governi che presiedono questi stati dicendo sono tutto sommato manipolati e corrotti da soggetti economici privati esterni ecco torno dall'avvocato Sandri quindi ribalta la situazione noi tendiamo a sottovalutare il potere dello stato invece sembrerebbe che il potere dello stato e della legge chi ha il monopolio della violenza sia preponderante assolutamente d'accordo con l'articolata adotta di disamina del dottor Rossi che ha a mio parere focalizzato i termini della diatriba in maniera chiara c'è uno spartiacque molto vicino a noi che misura esattamente la veridicità di questa analisi ed è quello che è accaduto con il problema dei multi-suprime negli Stati Uniti a cavallo del 2008 e 2010 in quel momento l'intero sistema bancario e tra queste le banche fondamentali della galassia di cui abbiamo parlato oggi vale a dire l'Emmanuel Browser Goldman Sachs e Morgan & Staley si trovarono in una situazione di pre-default avvenne quello che nessuno ha studiato io non ho tempo qui di spiegare la mia esperienza sul campo che cosa avvenne che gli Stati Uniti come governo imposero alle banche giapponesi ed europee di comprare i titoli obbligazionari di queste tre società bancarie americane i risparmiatori europei finanziarono quindi il tentativo di salvare il sistema ci riuscirono per due su tre di queste banche l'Emmanuel Browser fallì io arrivai in Germania nel 2009 e 2010 di fronte ad una situazione in cui e mi trovai di fronte ad una situazione surreale a Berlino si comprava 800 euro al metro quadrato perché le ripercussioni che le banche tedesche avevano avuto dell'obbligo di immagazzinare il debito della Lehman & Browser quindi di crearsi titoli tossici che poi a strascico hanno compromesso l'intero sistema bancario tedesco che è ancora in gravissima crisi tant'è che Deutsche Bank è stata assorbita da Postbank nello scorso anno tutto deriva da questa problematica che l'Europa e che il Giappone hanno vissuto in Italia non è mai stato calcolato quanto il sistema bancario abbia sofferto perché con il debito obbligazionario argentino di Cirio e di Parma le banche avevano comprato prior placement questo debito erano riusciti a spalmarlo su tutti i loro clienti ma i titoli tossici che arrivarono dagli Stati Uniti erano talmente tanti che il sistema non riuscì a spalmarlo e da lì ovviamente si ebbe il crack quindi la politica conta e come conta una sola politica perché poi questi poteri forti finanziari spadroneggiano nel nostro paese intendiamoci questo deve essere chiaro comunque bisogna sottolineare che non dobbiamo giustificare la politica assolutamente anzi hanno molta responsabilità la totale io sono proprio per il ribaltamento completo un uomo solo al comando non esiste Fauci non avrebbe mai potuto creare la fiction per pandemica quindi questa è indubbio che sia un'analisi corretta a proposito di democrazia perché stiamo parlando di democrazia bisogna tornare a parlare anche di informazione perché lo sappiamo chi controlla le menti un po' come scriveva il Russian Times appunto per quanto riguarda il controllo di Soros dei media in Asia chi controlla le menti controlla l'informazione e quindi controlla il potere ha in mano il vero potere e in merito a questo visto che siamo in ambito elettorale bisogna anche sottolineare che ci sono altri metodi altri strumenti utilizzati dal potere citava prima Rossi le big tech metodi che utilizzano i nostri telefoni i nostri smartphone per entrare in controllo delle nostre informazioni e in qualche modo andare a influenzarci almeno questa sarebbe la tesi vorrei farvi vedere un servizio recente per quanto riguarda il lavoro dei agenzie italiane che lavorano anche sul territorio italiano e che stanno controllando i dissidenti sentiamo le aziende italiane che forniscono spyware a forze dell'ordine e antiterrorismo avrebbero infettato milioni di telefoni per fini di controllo politico l'accusa arriva dai colossi del web google e meta che in due distinti report parlano di attività sospette e spionaggio per spyware si intendono infatti software dannosi che senza il consenso dell'utente monitorano le attività online e sottraggono informazioni sensibili in questo caso in particolare secondo i report le società italiane avrebbero creato falsi profili sui social tramite intelligenza artificiale e installato false applicazioni che funzionano come cavallo di troia sotto osservazione ci sarebbero attivisti politici giornalisti e dissidenti francesi tedeschi inglesi statunitensi di malta turchia mongolia zambia messico kazakhistan e azerbaijan le attività di spionaggio si sarebbero però concentrate in particolare in italia ad essere raccolti dati di ogni tipo posizione email sms audio e video il tutto anche grazie all'accesso a diversi social facebook instagram x youtube skype linkedin tiktok e molti altri i rapporti stilati da google e meta non fanno però esplicito riferimento agli obiettivi a che cosa si intenda per dissidenti inoltre una delle aziende italiane ha già prontamente risposto alle accuse si tratta di cypher gate nata nel 1993 specializzata in software dedicati alle attività investigative delle forze dell'ordine in una nota stampa cypher gate ha affermato che i suoi servizi sono forniti esclusivamente a forze dell'ordine da autorità giudiziarie nazionali ed estere per facilitare la prevenzione e il contrasto alle forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale precisa inoltre che le informazioni restano conservate sui dispositivi delle forze dell'ordine non su server aziendali che il gruppo cypher gate non ha mai generato avatar corrispondenti a manifestanti o giornalisti ricordiamo infatti che l'utilizzo degli spyware da parte delle istituzioni è legale e regolamentato dalla legge anzi con l'approvazione del media freedom act l'unione europea ha dato via libera all'uso di tali sistemi per controllare le attività dei giornalisti il caso in sé resta però molto sospetto da un lato è particolare che la segnalazione arrivi da due giganti del web che hanno fatto la propria fortuna sulla vendita dei dati dall'altro la tempistica della pubblicazione del report solleva dei dubbi e questo infatti un anno cruciale per diversi paesi dal punto di vista delle elezioni quasi la metà dei paesi del mondo andranno al voto fra cui Europa e Stati Uniti a questo punto si possono aprire diverse ipotesi la più banale è la seguente hanno paura che vinca qualche formazione politica o candidato non apprezzato dall'elite e vogliono tentare di manipolare le elezioni? Professor Mattei vorrei chiederle questi strumenti sono realmente efficaci per manipolare elementi degli elettori? Beh funzionano sì sì funzionano e vengono utilizzati non c'è dubbio anzi quando non vengono utilizzati c'è da domandarsi come mai ci sono alcune vittorie elettorali prima Sandri parlava benissimo di finanza è evidente che la Brexit per esempio ha introdotto una spirale che per i poteri di cui stiamo parlando è stata estremamente virtuosa perché ha liberato l'Inghilterra da quelle che erano una serie di incombenze che le erano state date rispetto all'Europa e ha ripristinato la dinamicità dell'asse angloamericano e di tutti questi investimenti nell'aggressività internazionale nelle guerre e tutto quanto quindi la Brexit è un dato importantissimo come mai la Brexit sembrava che fosse così tanto avversata dai poteri forti perché questo è il punto ma se i poteri forti avessero davvero voluto avversare la Brexit non sarebbero riusciti a controllare quel pugno di voti che ha fatto la differenza evidente che siamo di fronte a strumenti che sono molto efficaci che funzionano bene e che vengono utilizzati come dire in modo anche molto sofisticato e molto scaltro io quando ho saputo il tema di questa discussione stasera mi sono riguardato quel volumetto di Maurice Jolie che parla del dialogo agli inferi fra Montesquieu e Machiavelli che era stato un classico diciamo del pensiero del pensiero diciamo critico che si porgeva proprio contro Napoleone III quindi lui odiava Napoleone III e mette in discussione sostanzialmente il potere di Napoleone III che era considerato un dittatore dei liberali bene poi quel libro finisce nelle mani dell'Ocrana russa e diventa la base dei famosi protocolli dei Savi di Sion con i quali gli ebrei grazie a questa narrazione che in qualche misura tende un po' a dare come dire la responsabilità soltanto a chi controlla la finanza sono stati vittime delle pogrom all'inizio del Novecento in Russia altrove quindi eterogenesi dei fini tu scrivi un lavoro per dimostrare quanto il potere si comporta in modo intrusivo ed aggressivo e per quindi cercare di emancipare rispetto all'utilizzo proprio dell'informazione da parte del potere la cosa interessantissima di quel libro è tutto il discorso proprio sull'informazione e dopodiché questa cosa finisce nelle mani dei servizi segreti russi che in quel momento lo manipolano per costruire uno dei più famosi falsi storici che è quello dei protocolli di Savinission che viene citato da Hitler che tutti già sapevano che erano falsità ma non importa anche se sono falsità sono verosimili questo è il problema quando tu costruisci in qualche misura essenzializzi troppo dei discorsi che sono complessi come discorsi sul potere finisci sostanzialmente secondo me per prendere delle chine che possono essere anche molto pericolose un altro libro molto bello che è uscito da poco è questo di Guglielmo Ferrero Potere 1941 era uscito in Francia lui è uno dei grandi studiosi di quella generazione di italiani fra i quali c'era Pareto e altri c'era Lombroso nella criminologia che in quel periodo storico hanno contributo alla costruzione del pensiero critico proprio sul potere e Guglielmo Ferrero fa un discorso proprio del potere che si genera dall'alto tanto nelle monarchie e quanto nelle democrazie nelle repubbliche dice lui ma che si legittima dal basso che poi la vecchia discussione anche di Foucault eccetera il potere non puoi vederlo concentrato in società complessa nelle mani soltanto di pochi non funziona così il potere è un fenomeno diffusivo è un fenomeno diffusivo ed è per questo che è così importante l'informazione è proprio la manipolazione l'entrata nella come dire nella quotidianità delle persone che lo subiscono senza rendersene conto torno dall'avvocato Sandri la questione dell'informazione è fondamentale anche per costruire delle narrazioni ciò che rende questo sistema particolarmente complesso e anche subdolo è la contrapposizione tra il bene e il male cioè la narrazione si è impossessata di termini come democrazia come libertà e fa apparire questi termini solo come delle proprietà di una parte per cui Navalny è il democratico è il dissidente per la libertà e per cui alla popolazione agli utenti arriva questa questa immagine questa idea da una parte c'è il bene c'è la democrazia ci sono dei poteri che comunque si battono per la democrazia e la libertà dall'altro c'è il male come se dall'altra parte la democrazia e la libertà non ci potessero essere ecco questo è un altro aspetto fondamentale di questa questione certo però questo è anche parte da un lato del potere il potere ha sempre creato il nemico Karl Smith diceva che occorre creare il nemico per arrivare al potere centrare il nemico è l'elemento essenziale per arrivare al potere deve essere chiaro qual è il nemico questa è la teorizzazione di Karl Smith bisognebbe fare una rivoluzione culturale diversa vale a dire cominciare a ragionare in termini completamente diversi cioè se noi continuiamo a sviluppare dell'idea della antitesi come elemento di avanzamento violento è chiaro che continueremo a perpetuare la sopraffazione continueremo a perpetuare una dialettica che è una dialettica malata bisogna fare una rivoluzione interiore certamente bisogna approcciare e bisogna cercare di creare un oro nuovo che abbia nel conflitto una valenza residuale il conflitto deve essere marginale il diritto in fondo cerca di fare questo poi alla fine regolare in maniera virtuosa quello che sarebbe uno scontro fisico perenne quindi da questo punto di vista questo momento buio del diritto questa fase proprio tragica in cui noi assistiamo ad una distruzione della giustizia nel senso più profondo quello che sta avvenendo in Palestina va al di là di ogni valutazione che noi possiamo dare anche del concetto di sopraffazione siamo ad una mattanza veramente terrificante e da questo punto di vista io credo che sia essenziale ma nella storia abbiamo visto che si ripete per fortuna un avanzamento di una consapevolezza della necessità che l'uomo deve tornare a regolare scusi se la interrompo è chiaro che quando si declassa poi il diritto emerge la legge del più forte di chi ha più possibilità di surclassare l'altro bisogna imporre una cultura umanistica più profonda e quindi cercare di tirare fuori il lato meno animale del nostro essere non per niente noi viviamo in una bolla in cui il nostro diritto cerca di arrivare a questo dall'altra parte abbiamo un diritto anglosassone che si muove su una filosofia omo omini lupus quindi anche in questo ci sarebbe da allargare molto l'analisi però certamente abbiamo una missione importantissima su questo non c'è ombra di dubbio quella di alzare l'asticella della consapevolezza del nostro lato migliore e ci proviamo anche con queste trasmissioni allora io adesso andiamo a concludere questa parte ampia parte dedicata ai poteri più o meno occulti alle famiglie potenti alle organizzazioni più o meno sconosciute io voglio ringraziare Davide Rossi per essere stato con noi grazie non lo sentiamo ma ho capito che c'è grazie grazie dell'invito a presto grazie saluto anche il professor Ratto che per motivi professionali di lavoro ci ha dovuto lasciare ma comunque lo salutiamo e noi ci fermiamo qui con questo tema ma poi torniamo e ce n'è un altro non cambiate canale ben ritrovati subio blu l'ultima mezz'ora dell'ora della verità abbiamo parlato di poteri folti della famiglia Rossil adesso passiamo a parlare di vaccini e effetti avversi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento Marco Cosentino farmacologo benvenuto professore buonasera a voi buonasera a tutti grazie per l'invito e allora prima di iniziare questa nostra discussione sul tema dunque c'è questo studio il più grande studio globale mai visto prima sulla sicurezza dei vaccini conferma che gli effetti avversi sono più alti delle aspettative identificate ben 13 malattie gravi definite di particolare interesse vediamo il servizio paralisi trombi miocarditi il più grande studio globale sulla sicurezza dei vaccini conferma che gli effetti collaterali sono più alti delle aspettative lo studio in collaborazione con il CDC il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitense ed è stato pubblicato sulla rivista specialistica Vaccine come parte del progetto global covid vaccine safety la ricerca ha analizzato un numero mai visto prima di casi ben 99 milioni di persone raccogliendo i dati di vaccinati provenienti da 8 paesi Argentina Australia Nuova Zelanda Canada Francia Danimarca Finlandia e Scozia i risultati dello studio sono stati per gli scienziati sconfortanti rispetto alle aspettative gli effetti avversi sono risultati significativamente più alti delle stime ipotizzate questo non ha però modificato la narrazione con cui la ricerca viene presentata il dipartimento di ricerca epidemiologica di copenhagen che dirige lo studio ha infatti continuato a ribadire che i benefici superano i rischi e che è improbabile che singoli siti o regioni abbiano una popolazione abbastanza grande da rilevare segnali così rari quali sono però i segnali identificati dopo le miocarditi e pericarditi ci sono ben 13 malattie definite di particolare interesse fra le più preoccupanti c'è la sindrome di Julian Barret effetto avverso che può verificarsi a 42 giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca e che colpisce i nervi una malattia di evoluzione molto rapida autoimmune che causa debolezza muscolare difficoltà respiratorie spesso aritmie cardiache la patologia può evolversi in pochi giorni in una paralisi totale mettendo potenzialmente in pericolo la vita del paziente circa il 5% dei malati muore nei casi analizzati erano previsti 66 casi di Julian Barret ma lo studio ha osservato 190 soggetti malati per quanto riguarda i vaccini ad mRNA differenze significative sono state riscontrate nei casi di encefalomielite acuta disseminata patologia neurologica che nei peggiori dei casi può creare offuscamento della vista convulsioni e paralisi si tratta di un effetto avverso da somministrazione Pfizer riscontrato in 7 casi rispetto ad un'aspettativa di 2 dallo studio si evidenzia quindi un aumento 3 volte superiore al previsto per quanto riguarda Moderna salgono i casi di embolia polmonare convulsioni febbrili dopo la seconda dose riscontrato anche un aumento di pericarditi e infiammazione della membrana che riveste il cuore e questo il vaccino con il più alto aumento nel rapporto tra eventi attesi ed effetti avversi effettivamente riscontrati e questi sono solo alcuni dei dati riportati in questa ricerca vado da lei professor Cosentino se ci spiega i risultati di tale studio sì volentieri allora io voglio prima di tutto dire alcune cose in premessa e cioè che siamo ormai rassegnatamente costretti ad avere a che fare con studi di questo genere che sono degli studi osservazionali su più o meno grandi casistiche più o meno grandi archivi epidemiologici più o meno istituzionali nazionali o collaborativi come questo prima di tutto perché gli studi registrativi sono stati totalmente insufficienti io continuo a ripetere che questi sono tra i prodotti peggio progettati e peggio sviluppati anzi direi in assoluto visto anche il largo uso che se ne è fatto veramente non mi viene in mente nulla di più approssimativamente sviluppato e di conseguenza dobbiamo avere a che fare solo e esclusivamente con queste fonti di dati allora queste fonti di dati poi vengono allora queste fonti di dati anzi io prendo non potrei fare un ragionamento di carattere generale ma prendo precisamente quello che hanno scritto gli autori stessi che devo dire che sono stati piuttosto onesti nella loro valutazione perché si va a vedere la discussione e alla fine loro identificano come correttamente va fatto in tutti gli studi di questo genere tutta una serie di limiti nel loro lavoro che riguardano prima di tutto il materiale utilizzato ovvero loro parlano di eterogeneità nella raccolta dei dati nella qualità dei dati negli standard di segnalazione di questi dati tra i diversi paesi che partecipano dichiarano esplicitamente di non essere in grado di controllare eventuali condizioni di salute preesistenti fattori genetici fattori etnici pattern comportamentali quindi abitudini e stili di vita fino ad arrivare a quella che è una delle questioni più enormi che fisiologicamente riguardano dati di questo genere che è la sottosegnalazione qui non siamo credo precisamente di fronte a un puro sistema di segnalazione spontanea ma comunque è un sistema che funziona non sulla base di un monitoraggio intensivo e di una raccolta sistematica che ci assicura il 100% di raccolta di dati ma sono sistemi ci siamo detti eterogenei tra paesi differenti che non controllano tutti i dati rilevanti e che sono soggetti a sozzosegnalazione quindi le stime sono sicuramente calcolate per difetto dopodiché veniamo a quello che è stato preso in considerazione giustamente nel vostro servizio avete osservato sono stati identificati 15 eventi avversi di particolare rilevanza ma è semplicemente perché ci si è focalizzati su quelli cioè non è che si sia cercato qualunque tipo di evento avverso e poi questi 15 siano emersi sono quelli su cui d'accordo o meno insomma il discorso può essere anche relativamente ragionevole sono quelli su cui ci si è che sono stati scelti a priori e su cui ci si è concentrati e che sono stati appositamente ricercati non ne sono stati ricercati tantissimi altri per toccare per esempio un aspetto oggi estremamente controverso ma assolutamente attuale nessuno ancora malgrado il tempo trascorso che forse potrebbe consentire già di fare qualche valutazione ha preso in considerazione per esempio patologie di natura neoplastica oppure patologie di natura francamente neurodegenerativa come possono essere Parkinson Alzheimer eccetera eccetera ma semplicemente per dire che questo è quello che è stato scelto la metodologia che è stata utilizzata per identificare i segnali è una metodologia pienamente in accordo con l'algoritmo dell'organizzazione mondiale della sanità che mette tutta una serie e questo continuo a ripetere ormai da anni più o meno comprensibilmente nel momento in cui si parla di vaccini convenzionali ma questi non sono vaccini convenzionali mette una serie di limiti e di vincoli che ancora una volta sono a favore di una sottostima di qualunque tipo di segnale di rischio uno di questi uno di questi limiti per esempio è evidente nell'approccio che viene utilizzato statisticamente questo è uno studio epidemiologico probabilmente non potrebbero fare diversamente dovendo lavorare a livello di popolazione e non a livello di singolo caso e lo dicono e il il segnale viene identificato come una sproporzione tra il cosiddetto atteso e l'osservato dove si dà per scontato che ci sia un atteso che spontaneamente si verifica sempre e comunque non ci si chiede quali possano essere le cause di questo di questo atteso una sorta di linea di base che va superata per riuscire ad avere un segnale si dice allora il segnale potrebbe essere attribuito ai vaccini già questo è un approccio discutibile perché insomma anche l'atteso evidentemente avrà delle sue cause e ricordiamoci che c'è sempre di mezzo la questione della sottosegnalazione dopodiché vengo a come viene considerato l'osservato perché l'osservato viene ulteriormente ristretto alla famosa quanto famigerata plausibile finestra temporale imposta dall'organizzazione mondiale della sanità per i vaccini che lo ricordo non è un intervallo di tempo ben preciso ma è un ragionevole intervallo di tempo dalla vaccinazione e intervallo entro il quale ci possiamo aspettare che si verifichi un effetto avverso quell'intervallo che nella massima parte dei casi per esempio la nostra agenzia del farmaco ha declinato in due settimane in questo studio invece ci scelgono 42 giorni 6 per 7 42 giorni 6 settimane ma il che vuol dire per esempio che quello che succede dopo 42 giorni anche se rientra in quelle 15 tipologie che sono state ricercate viene sistematicamente escluso di sfuggita osservo che questa esclusione non è diciamo così scientificamente giustificata se per esempio ci rifacciamo ai pochi ma significativi studi alcuni anche di eccellente qualità che ci mostrano come invece la permanenza di questi vaccini soprattutto i vaccini a RNA sia l'RNA sia la proteina che viene prodotta dall'RNA la proteina virale che si chiama spike possono persistere nell'organismo anche per diversi mesi quindi andiamo molto al di là di questi 42 giorni questo è un altro limite imposto e che evidentemente contribuisce poi come sempre alle sottostime allo scarto di casi eccetera ultima questione poi qui mi fermo ma sicuramente ci sono tante altre cose da approfondire la condizione che spesso viene messa nei studi di questo genere e anche in questo caso è stata messa è che per considerare un caso delle varie patologie prese in considerazione come effetti avversi la persona che ne soffre non deve aver avuto un evento simile nei 365 giorni precedenti che è una misura estremamente prudenziale per dire questa è una persona che non aveva assolutamente niente quindi se ce l'ha avuto dopo che è stata vaccinata è molto probabile che sia il vaccino ma se riesco a spiegarmi in questa maniera si esclude automaticamente la possibilità che il vaccino sia invece come capita per qualunque medicinale l'evento scatenante una predisposizione esistente cioè a dire io faccio sempre il paragone secondo qualunque altro farmaco una persona cardiopatica che ha già avuto per esempio sei mesi fa un infarto sperimenta un altro infarto come minimo viene riportata un'avvertenza ed eventualmente una controindicazione perché questo medicinale può essere un medicinale scatenante una patologia sottostante nel caso del vaccino un infarto in una persona che sei mesi prima ha avuto l'infarto è colpa della persona che è cardiopatica semplifico un po' ma il meccanismo è questo che è esattamente lo stesso tipo di ragionamento che è stato applicato in questo studio questo è quanto chiarissimo è stato molto molto chiaro io vado dall'avvocato Sandri però ecco nonostante tutto questo si continua a dire dovete vaccinarvi è importante vaccinarvi e un'altra domanda le faccio è loro cioè coloro che hanno prodotto messo a punto questi vaccini non potevano non sapere quindi se non potevano non sapere questi non sono effetti avversi sono effetti certo diciamo che questo studio non fa altro che confermare quanto le stesse case farmaceutiche hanno già messo confessoriamente vorrei a dire la esistenza di eventi avversi e l'hanno confermata con studi che hanno licenziato a metà dello scorso anno e che Emma ha recepito perché ha imposto nel silenzio generale perché i media non hanno parlato di questo ha imposto un mutamento anche non solo del bugiardino ma anche del consenso informato quindi nel consenso informato obbligatoriamente deve essere presente da qualche mese la indicazione che ci possono essere eventi avversi soprattutto per pericarditi e miocarditi io insieme ad altri colleghi l'avvocato Marini soprattutto abbiamo presentato a Deima dopo che è uscita questa auto di dichiarazione confessoria dell'esistenza di moltissimi eventi avversi abbiamo presentato un'istanza per sapere se esisteva ancora il rapporto rischio beneficio che è un altro dei lati oscuri perché i morti sono sicuri il rapporto rischio-beneficio è un mantra che viene recitato in assenza di sostanziali prove scientifiche nella misura in cui questo termine deve essere utilizzato come prove empiriche ovviamente chi ha studiato la diagnostica e io mi occupo da tre anni di approfondimento della diagnostica che è il punto di partenza dell'alterazione della problematica perché è la diagnostica è la alterazione la falsificazione della diagnostica che porta al presunto rapporto positivo rischi-benefici se si andasse ad esaminare nel profondo se effettivamente i casi di positivi sono tali probabilmente si arriverebbe alla quadra di quello che non si riesce a fare ed è lì che bisognerebbe forse focalizzarsi poi è chiaro come diceva giustamente il professor Cosentino che se si fa una sorveglianza passiva e non attiva i dati sono totalmente fasulli questo è evidente Professor Mattei sappiamo da un punto di vista quindi scientifico che ci sono delle evidenze che ci dicono che questo vaccino non era sicuro così come ce l'hanno raccontato dall'altra parte continua però nonostante tutto un'illazione continua di coloro che non vogliono vaccinarsi che vengono definiti nei peggiori modi complottisti eccetera sarebbe forse il momento che la legge alzi la mano e inizi a pensare dal punto di vista regolamentazione legislativo di proteggere coloro che non vogliono vaccinarsi sarebbe dovuto avvenire da quel di nel senso che imporre un obbligo imporre un'estorsione vaccinale come quella che è stata imposta in Italia non solo in Italia è un precedente unico dal punto di vista della storia del diritto non sarà mai vista una cosa simile a memoria d'uomo quindi questo è stato un terremoto del movimento contro la legalità un movimento antidiritto scatenato dalle grandi corporation ormai da parecchio tempo che ha origini evidenti anche in quei blocchi finanziari di cui si parlava prima anche nella sostituzione del diritto con la tecnologia che è l'altra frontiera sostanzialmente della sorveglianza perché se tu sorvegli tutti dopo non hai più bisogno del diritto perché i conflitti non avvengono in qualche modo li previeni quindi è veramente un capovolgimento rispetto a quelle che sono le coordinate normali della riflessione sulla vita in società che è cambiato e quasi nessuna voglia di farci conti perché ci sono sacche di pigrizia intellettuale terribili negli Stati Uniti è così evidente ci sono dei casi clamorosi ma anche fra amici miei molto cari che hanno vaccinato magari i ragazzini piccoli che adesso stanno malissimo hanno degli evidenti effetti avversi adesso hanno inventato quest'idea del long covid per cui quando tu hai delle conseguenze avverse dicono sono le conseguenze del covid che vanno su lungo periodo lo chiamano long covid e si tolgono così dalla coscienza il fatto di aver vaccinato i figli perché erano caduti in un delirio di ipocondria determinato ovviamente da tutto quel utilizzo del potere diffuso dell'informazione di cui abbiamo parlato mille volte quindi io non credo si uscirà ottenendo delle scuse però io riscontro che tante delle cose che venivano dette prima non vengono più dette che quelli che hanno rifiutato il vaccino come il sottoscritto ne possono andare generalmente orgogliosi e nessuno si sogna più di utilizzare quei gerghi volgarissimi che utilizzavano precedentemente si cerca un po' come dire per quieto vivere di far finta di niente quindi io credo che sia stata una lezione durissima che comunque è stata imparata tant'è che non si vaccina più nessuno cioè il punto reale di questa situazione è che se volevano vendere noi abbiamo credo più di un miliardo di euro buttato al vento comprando un prodotto che voglio dire se non si fosse vaccinato nessuno mai sarebbe stato molto meglio probabilmente questa è stata una gigantesca truffa farmacologica io credo quindi per le case farmaceutiche l'affare è fatto ma certo loro l'affare l'hanno fatto però capisci che i governi che hanno preso ma figurati si interviene figurati si interviene cioè è molto molto improbabile anche perché comunque ti ripeto è talmente difficile discutere di nesso causale tu puoi dire long covid e puoi dire ah se non l'avessimo fatto sarebbero morte 50 milioni di persone certo e non c'è modo di dire di fronte a quel tipo di incertezza no? è un po' come le teorie sulla marca share liability tu puoi dire il fumo fa malissimo come fai a segnare la responsabilità a questa casa di tabacco piuttosto che alle altre ragioni che ti fanno venire il cancro dei polmoni e allora lì poi negli Stati Uniti è nato per un certo periodo di tempo ci si sono sviluppati un mucchio di teorie di responsabilità civile anche molto avanzate per esempio a seconda di qual è la tua quota di mercato tu sei responsabile per una parte no? la marca share liability ma poi si è scatenata la reazione perché comunque le corporation non sono lì per farsi crocifiggere dal diritto lo controllano controllano i politici che lo fanno e quindi il diritto è debolissimo in queste condizioni in queste condizioni rispetto alle grandi alle grandi dinamiche del capitale questo è uno dei grandi punti secondo me torno dal professor Cosentino per chiedere dunque da quello che lei ci ha detto voglio tornare su questo aspetto la realtà è ben peggiore di quella che ci raccontano perché abbiamo visto che questi dati questi studi sono comunque parziali quindi c'è una realtà che potrebbe essere ancora più negativa di quella che già appunto vediamo sì non c'è dubbio non c'è dubbio perché tutti i sistemi che sono stati utilizzati prima di tutto tutti i sistemi che vengono utilizzati per fare la cosiddetta farmacovigilanza sono tutti gravati in maniera più o meno pesante da un grado più o meno elevato di sottosegnalazione un paio di anni fa con la commissione medico-scientifica indipendente confrontando i dati italiani con quelli statunitensi del virus che sono tutto sommato pur non essendo esenti da vizi anche quelli storicamente diciamo la raccolta di segnalazioni spontanee che meglio funziona stimammo un tasso di sottosegnalazione tra i più alti riportati nella letteratura scientifica stimabile in un evento avverso segnalato su da 1000 a 5000 che si può ritenere non si fossero verificati ma rispetto a quelli segnalati a virus che già di per sé stesso evidentemente non rappresenta la totalità degli eventi se posso fare un breve inciso per rispondere all'amico Mattei sulla questione del rapporto di causalità senza dubbio questo è un enorme problema ed è un enorme problema temo irrisolvibile finché saremo costretti come siamo da sempre a muoverci sul terreno del dato epidemiologico se riesco a spiegarvi perché vedi bene che siamo costretti a confrontarci con delle misure del tipo il rapporto tra l'atteso e l'osservato come se ci fosse un atteso che in qualche modo per un destino così insondabile deve per forza verificarsi e un osservato un po' faccio a volte la metafora della casualità del meteorite che si può abbattere su casa mia o su casa tua in una maniera assolutamente casuale quello che manca in tutto questo discorso ed è ovviamente mio campo precipo di interesse ma che non si riesce veramente a scardinare è il tema dello studio specifico del potenziale lesivo di questi prodotti noi abbiamo tutta una serie di indizi anche piuttosto anzi direi frammenti piuttosto consistenti che messi assieme se come si dice tra indizi fanno una prova quindi sommato di prove alcune ce le abbiamo che questi prodotti possono direttamente con dei meccanismi piuttosto diversi dei quali cominciano a essere descritti anche a livello molecolare in gran parte perché conosciamo la tossicità della spike virale in una certa parte perché qualche studio anche direttamente sui vaccini esiste non in Italia dove il prodotto va a fare assolutamente irreperibile a un ricercatore che lo volesse studiare ma la chiave voglio dire è quella di unire il dato epidemiologico con la conoscenza della quella che io definisco farmacotossicologia cioè della descrizione del potenziale lesivo del prodotto su basi razionali conoscendone la natura dei principi attivi i meccanismi molecolari i versagli cellulari e tessutali su cui vanno ad agire chiave che di conseguenza ti consente al bisogno e di bisogno Dio sa se ce n'è di entrare nel merito del singolo caso e dare per esempio un significato ai reperti autoptici perché ad oggi uno dice facciamo le autopsie ma poi il punto è che cosa vai a cercare perché di marcatori specifici che possono indicare un danno specifico a questo prodotto veramente ce ne sono pochi c'è il quadro noto di quello che può essere l'infiltrato infiammatorio per esempio a livello miocardico questo è un dato ma per il resto c'è c'è veramente poco e concludo osservando come ormai frequentemente faccio la sorpresa che dovrebbe destare il fatto che ad oggi nessuno Stato nessuna istituzione pubblica abbia ritenuto di avviare per esempio dei programmi di ricerca pubblica quindi su fondi su bandi tramite presentazione di progetti che si occupino precisamente di questi aspetti in Italia abbiamo decine e decine centinaia di decine e decine di università di istituzioni istituti di ricerca centinaia di gruppi che sono sicuramente in grado di svolgere un'attività di ricerca anche molto dettagliata chiarendo tutti questi aspetti che ci stiamo dicendo ma non esiste un programma che si aprisce a parte la questione della inaccessibilità del prodotto ma non esiste e nessuno sembra che abbia in mente di avviare un programma di ricerca pubblico su questi argomenti il privato ovviamente non ci pensa minimamente a svegliare il canchio dorme no? E chissà se qualcuno ci ascolta e realizzerà questa che sembra un'utopia tuttora di realizzare una ricerca purtroppo siamo in chiusura io vado da Mario in prota ciao Mario c'è Mario in prota allora ho deciso di immaginare la dipartita del grande barone Rothschild in una serie di eventi autoconclusivi partiamo dal primo eccolo qui lo vediamo che si rivolge a un angelo dicendo non voglio andare laggiù ho sempre vissuto da banchiere ed è per questo che andrai laggiù risponde giustamente l'angelo e poi ovviamente il passaggio successivo tra le braccia ovviamente del nuovo padrone diciamo di Rothschild eccolo qui vediamo la vignetta adesso proverai il pene dell'inferno ma non erano le pene? no ecco andiamo ancora avanti perché nell'ultima vignetta vediamo un un Rothschild che corre vediamolo subito ecco che si è spento un Rothschild spento un bip ultima vignetta riguardante appunto le cosiddette reazioni avverse che non sempre vengono evidenziate e non tutti i medici sono disposti a riconoscerle vediamo il caso del signore in questione reazioni avverse sì una leggera paresi ma nulla di cui preoccuparsi e il terzo occhio ah prima non c'era eh no eh no grazie grazie allora io vado a salutare in collegamento Marco Cosentino grazie per essere stato con noi su Bioblu grazie grazie a voi è sempre un piacere buona serata grazie per le preziose informazioni l'analisi puntuale saluto anche l'avvocato Mauro Sandri grazie davvero e il professor Ugo Mattei grazie anche a lei naturalmente saluto anche i nostri amici che sono venuti a trovarci grazie davvero anche a voi grazie a te Arianna che mi ha accompagnato e voi naturalmente restate su Bioblu l'appuntamento con l'ora della verità e per giovedì prossimo ciao grazie a tutti grazie a tutti